Bambolina Bebé Annabelle, come mai non smette di piangere? Cos'è successo? Peppa, che cosa è successo? Perché Annabelle piange di nuovo? Le ho provate tutte! Le ho date il biberon, le ho date il ciuccio e poi l'ho anche commata! Ma niente, continuo a piangere! Peppa, è molto strano! Annabelle, ma perché piangi? Se solo potessi parlare! Ciccina, non piangere! Povere Peppa e Sidney, hanno bisogno di aiuto! Ma che cosa starà facendo? Bambino, non lo so! Wow! Annabelle ha smesso di piangere! È certo che ho smesso di piangere! Wow! Annabelle, tu parli! Annabelle, per quanto tempo è che puoi parlare? Annabelle, per quanto tempo è che puoi parlare? E' molto caldo! Allora, dici perché stavi piangendo? Che cosa possiamo fare per te? Tanto per cominciare! È molto caldo! E' molto caldo! E' vero! I suoi vestiti sono molto caldi! Hai ragione, Annabelle! Se è molto caldo bisogna toglierti questo vestitino pesante Adesso va molto meglio Va bene così? Piangevi solo per questo? Certo che no! Peppa continua a provare a darmi il ciuccio Non ho capito che io sono troppo grande Ma io non ne avevo idea Tu non mi hai detto niente Peppa continua a darmi questi ostacchiotti Ma io voglio giocare con la palla Vuoi giocare con la palla? Ecco qua Voglio giocare un poco Guarda quanti altri giocattoli Vuoi giocare con l'unicorno? Che c'è Annabelle? Vuoi dormire? Sì Ho tanto sonno Bene Annabelle si è addormentata E adesso possiamo mettere in ordine i giocattoli Che dici Sidney? Quando Annabelle si sveglierà Continuerà a parlare? Non lo so Peppa Però non è così importante Tanto tra poco comincerà a parlare comunque Speriamo Perché per me è molto più semplice Quando lei dice direttamente che cosa buona Sono d'accordo con te Peppa Anche io non vedo l'ora E a te Piacerebbe che le tue bambole incominciassero a parlare? Scrivicelo nei commenti Ciao Ciao